Domani alle 21, il fischio d'inizio del posticipo tra Reggiana e Pescara. Poco fa ha parlato in conferenza stampa il tecnico Gaetano Uteri, che potete vedere lì alle mie spalle con il suo staff. Ve lo sta inquadrando il nostro Diego Martelli. Il tecnico Uteri è apparso molto sereno in conferenza stampa. Le buone notizie arrivano da Marco Pompetti. Il centrocampista ha recuperato completamente. Non si era allenato mercoledì, giovedì e venerdì. Ieri un allenamento, questa mattina la rifinitura ha lavorato tranquillamente con i compagni. Sarà della partita, non ci sarà invece in grosso, al pari di Chiarella, Delle Monache e Memusciai, che non verranno convocati. In mediana giocheranno dunque Pompetti e Derisio, con Cancellotti a destra e in zita. Lo ha detto proprio il tecnico Uteri in conferenza stampa. A sinistra resta qualche dubbio in difesa, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Clemenza. In vantaggio su Rauti, Ferrari e Dursi. Andiamo ad ascoltare allora i passaggi chiave della conferenza stampa di Auteri. Il solito punto della situazione su eventuali indisponibili, soprattutto come stanno Pompetti e Ingrosso per settimana? Pompetti bene, Ingrosso stamattina si è allenato, però è riduce da un virus influenzale. E quindi lo prepareremo per giovedì, non è il caso di portarlo dietro. Poi parte Ingrosso, vabbè non c'è Delle Monache, Chiarella aspettiamo ancora un'altra settimana. Perché Delle Monache? Ma ho avuto un piccolo problema una settimana fa. Sul fatto di Pompetti, che comunque non si è allenato qualche giorno e c'è la partita di giovedì, può influenzare nelle scelte oppure gioca e è pronto? Allora, Pompetti è un giocatore che si è sempre allenato con continuità. Adesso lui ha fatto tre partite la settimana scorsa e in una settimana, quasi tutte per intero. E quindi è accusato un po' di affaticamento. Ma è un giocatore che sta bene, si è sempre allenato, quindi è un giocatore pronto. Vista su Druti e Cernicoi stanno bene? Stanno bene tutte e due, tutte e due sono allenati stamattina, sì sì, fanno parte dei convocati, nessun problema. Ma noi alla partita dell'andata non ci dobbiamo pensare più perché appartiene al passato. E poi veramente non serve andare a analizzare proprio nulla. È stata una partita, domani ce ne sarà un'altra, diversa. Noi andremo in casa di una squadra che non ha mai perso, quindi ci mancherebbe altro che non abbiamo rispetto. Hanno anche tanti punti in più rispetto a noi, quindi fino a questo momento del campionato qualcosa in più di noi hanno prodotto. Questo è indubbio, ma noi per cultura, per mentalità, per atteggiamento accetteremo il confronto e andremo a giocare. Fa parte del nostro DNA. Sicuramente non siamo squadra che sa speculare, ma neanche abbiamo intenzione di speculare. Vedremo quello che dirà il campo, ma la squadra, il Pescara sta bene. Così come abbiamo detto prima, il campo dirà, noi abbiamo voglia di andarci a confrontare. L'ultima mia domanda, anzi l'ultima e due, su eventuali dubbi. Come ha visto Nzi Terrasi in questa settimana nel ruolo di esterno? E davanti se l'ottima prova di Clemenza, anche con il gol, l'ha fatto superare nella gerarchia di Rauti? No, ma io non ho mai fatto gerarchia. Gerarchia scrivete voi, perché qualcosa dovete scrivere pure voi. Gerarchia non ce ne sono, per me sono tutti i titolari, sono giocatori, ogni ragazzo ha delle caratteristiche diverse. Nzi Terrasi in Sita sono due giocatori forti che fanno parte di questo organico, giovani anche, integri. In Sita bene, Clemenza ha fatto bene, Rauti ha fatto altrettanto bene. Valuteremo anche nell'economia delle tre gare, ma non ci sono gerarchie. Gerarchie non ne ho mai fatte. Può essere che giocheranno tutti e due, più altri due. Che ne sappiamo, voglio dire, può essere pure che potremmo pure giocare 3 più 1. Chi l'ha detto? Perché no? Queste dunque le parole del tecnico biancazzurro Gaetano Auteri. Squadra in partenza per Reggio Emilia. Domani sera, ore 21, MAPEI Stadium, il fischio d'inizio del posticipo tra Reggiana e Pescara.